Tremone da Morbo di Parkinson, cura risolutiva all'ospedale dell'Aquila. Riqualificazione di Piazza Torlonia, da domani il via ai lavori. Circuito per autodepoca, edizione nel segno di numerose novità. Balneazione vietata al lago di Barrea, è stata denunciata dalla stazione ornitologica abruzzese. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. In apertura di giornale una interessantissima notizia medica riguarda la cura per il Morbo di Parkinson, di cui sono veramente molte le persone che ne sono affette. Il paziente indossa uno speciale casco ad altissima tecnologia e tramite emissioni di ultrasuoni focalizzati, indirizzati su specifiche aree di cervello, risolve in modo immediato il problema del tremore dal Morbo di Parkinson. È l'ultima frontiera della tecnologia di cui in Italia, oltre all'Aquila, dispone solo Verona e per la quale in Europa ci sono solo sette centri. La sofisticata applicazione è stata presentata questa mattina all'Aquila, all'ospedale San Salvatore, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci, del manager dell'ASL Rinaldo Tordera, del direttore della radiologia universitaria Carlo Masciocchi e della rettrice dell'università Paola Inverardi. Il trattamento è altamente efficace poiché consente di debellare il tremore dovuto al Morbo di Parkinson e quello cosiddetto essenziale in modo immediato durante l'esecuzione della prestazione. La tecnica usata è quella degli ultrasuoni focalizzati guidati con risonanza magnetica che attraverso la termoablazione, tecnica che brucia il solo tessuto malato, consente di intervenire sulla patologia senza intervento chirurgico. La termoablazione con ultrasuoni focalizzati è una procedura che la radiologia universitaria dell'Aquila San Salvatore adotta dal 2011 e che ha consolidato ed affinato negli anni successivi impiegandola con risultati eccellenti nel trattamento dei fibromi uterini e ponendo al primo posto in Europa il centro agguilano nel trattamento dei tumori benigni dell'osso in età pediatrica. Una esperienza trasferita ora sulle patologie neurofunzionali. A proiettare l'ospedale del capologo regionale nell'Olimpo europeo non è solo la possibilità di disporre del sistema di ultrasuoni focalizzati, ma anche quella di avvalersi di un sistema ad alto campo di risonanza magnetica. Il trattamento in sé dura circa due ore ed il paziente dopo una notte in osservazione torna a casa. Finora sono stati effettuati i trattamenti su otto pazienti, tutti con esito positivo, con un gioco di squadra che ha coinvolto oltre alla radiologia universitaria diretta dal professor Masciocchi, l'unità operativa di neurologia capeggiata dal professor Carbine Marini, l'unità operativa di neurochirurgia diretta dal dottor Alessandro Ricci e il servizio di anestesia e di animazione guidato dal professor Franco Marinangeli. Insomma, veramente una notizia interessante. Nei giorni scorsi, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura dell'Aquila, si è presentato un cittadino di nazionalità pakistana per formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato dalla Questura di Caltanissetta nel 2015. Lo straniero, dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno, ha trascorso dei lunghi periodi all'estero ed è rientrato in Italia per richiedere il rinnovo del titolo posseduto. Gli accertamenti esperiti, anche presso gli archivi elettronici dell'Interpol, finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del documento, hanno permesso di riscontrare che lo stesso era un soggetto da ricercare in ambito internazionale ai fini estradizionali. Infatti il cittadino, come confermato dal servizio Interpol pakistano, era destinatario di un mandato di cattura per omicidio doloso in concorso commesso nel suo paese d'origine. Alla luce di quanto accertato, nella giornata di ieri, personale dell'ufficio immigrazione della Questura, diretto da Franceschina De Dominicis, commissario capo della Polizia di Stato, ha proceduto al suo arresto dopo averlo prelevato presso il domicilio dallo stesso dichiarato al momento della richiesta del rinnovo del titolo. Acqua Santa Croce prende le distanze e si dissocia nella maniera più assoluta, condannando fortemente gravissimi episodi di bullismo e mancanza di rispetto verso le donne, verificatesi nel corso dell'edizione 2018 del Grande Fratello. Lo comunica la stessa società dell'imprenditore molisano Camillo Colella, che è il proprietario, ricordiamo, del marchio. Nel pieno rispetto della nostra clientela e dei valori che contraddistinguono da sempre la nostra azienda, comunichiamo la fine di qualsiasi rapporto di sponsorizzazione con il programma. Il nostro prodotto non può essere associato ad episodi di simile gravità. La situazione che si è venuta a creare durante l'edizione 2018 del Grande Fratello è diventata inaccettabile. Abbiamo appena richiesto ufficialmente alla produzione del programma di ritirare tutti i nostri prodotti dalla casa e comunichiamo che tutti i riferimenti al programma saranno eliminati dalle nostre pagine social. Il nostro storico slogan conclude è sempre stato Acqua Santa Croce, qualità trasparente e con la massima trasparenza abbiamo deciso di dissociare il nostro prodotto da un programma che attraverso i comportamenti di alcuni suoi concorrenti si è reso protagonista di episodi di gravità inaudita. Passiamo alla politica. Il Consiglio Comunale di Avezzano, come ha reso noto il Presidente Elidio Cosimati, è stato convocato in sessione ordinaria e di radunanza di prima convocazione per il giorno 21 maggio alle ore 17 per la trattazione di diversi argomenti che sono stati scritti all'ordine del giorno. Tra questi, riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del giudice di pace di Avezzano, approvazione e rendiconto generale, esercizio finanziario 2017, ristrutturazione ed adeguamento e crescosa scuola materna Montessori, rinuncia al diritto di prelazione relativa a dei beni già gravati da uso civico, mutamento di destinazione d'uso, di terre civiche, ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Questo per quanto riguarda il giorno, però c'è da dire che il 21 maggio sarà un giorno importante e cruciale per la giunta di Angelis che dovrà accertare se sussiscono ancora le condizioni per andare avanti, cioè contare su una maggioranza. Lo stallo nel comune di Avezzano dura ormai da troppo tempo e le maggioranze variabili che vanno e vengono non garantiscono alcuna stabilità all'amministrazione cittadina né si scorgono soluzioni all'orizzonte. Pertanto, in virtù anche del fatto che entro il 28 prossimo c'è il rischio di scioglimento del Consiglio da parte del Prefetto, se non si approverà il consuntivo di bilancio, propongo una collaborazione tra tutti i consiglieri al fine di sostenere un rinnovo dell'attuale gestione. Lo dice in una nota il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Eligi. Sarebbe importante capire quanti, tra la maggioranza e l'opposizione, aderirebbero ad un rinnovamento dei ruoli, scegliendo una nuova giunta composta esclusivamente da professionisti esterni alle parti politiche. Sarebbe la dimostrazione concreta di avere a cuore il bene comune piuttosto che la pretesa o il mantenimento di un posto d'assessore. Si potrebbe così arrivare all'approvazione del bilancio di fine anno per poi andare al commissariamento della città e quindi a nuove elezioni a primavera. Oppure, se l'esperimento funzionasse, si potrebbe giungere addirittura a fine mandato. Ovviamente, conclude il rappresentante del Movimento 5 Stelle, l'ultima parola non spetta ai consiglieri, bensì al sindaco, che purtroppo, avendo tradito il civismo delle liste con cui è stato eletto, ha già dimostrato che, in fondo, è più importante la sua volontà che quella di chi lo ha votato e sostenuto per un progetto ben diverso. E restiamo al comedia Vezzano. Si è svolto in un clima sereno e costruttivo, invece, il question time, in cui sono state trattate le interrogazioni e le interpellanze sollevate da alcuni consiglieri comunali di minoranza di Vezzano. L'assessore agli affari legali, Chiara Colucci, è intervenuta sulla controversia GL presentata da Roberto Verdecchia e Domenico Di Berardino e sulla situazione IRIM, nuovo municipio, presentata da Roberto Verdecchia e Cristian Carpineta, mentre il vice sindaco Lino Cipolloni, con delega ai lavori pubblici, ha dichiarato, ha chiarito sulla interrogazione interporto di Vezzano presentata da Gianfranco Gallese. L'assessore Colucci è relazionato in merito alla situazione attuale in cui si trovano due annose vicende processuali che vedono coinvolto il comune di Vezzano, sottolineando l'intenzione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il caso GL di recuperare l'intera somma di cui è creditrice oltre un milione di euro e di riottenere il possesso dell'immobile. Per quanto riguarda il caso del nuovo municipio, si lavorerà per completare un'opera da riconsegnare quanto prima ai cittadini. Il vice sindaco Cipolloni ha chiarito l'intenzione dell'amministrazione, guidata dal sindaco Gabriele De Angelis, di destinare l'interporto a progetti di protezione civile e come eventualmente, oppure come eventuale punto di riferimento dell'esercito italiano, sottolineando che al momento non esiste carteggio tra Regione e Protezione Civile nazionale, ma sono in corso solo colloqui tra il Presidente della Regione e il responsabile della Protezione Civile nazionale che ha dimostrato interesse per le strutture di Vezzano e L'Aquila. Naturalmente per l'Avezzano l'interporto e l'Aquila l'aeroporto. Al via ad Avezzano, i lavori di riqualificazione di Piazza Torlonia. L'amministrazione comunale fa sapere che è stato accertato che su parte dell'area circostante la recinzione, sporgente per circa 60 cm rispetto al perimetro di Piazza Torlonia, dovrà essere vietata la sosta dei veicoli in quanto il restringimento della sede stradale non consente il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, pertanto per ragioni di pubblico interesse saranno adottati i seguenti provvedimenti. Dal 16 maggio al 19 agosto 2018 istituzione del divieto di sosta con rimozione su via di Piazza Torlonia, lato sud, solo lato sinistro, direzione di marcia dal civico in T4 di fronte all'incrocio con Piazza della Repubblica. Dal 16 maggio al 19 agosto 2018 istituzione del divieto di sosta con rimozione su via di Piazza Torlonia, Chioschetto, solo lato destro, direzione di marcia dall'area immediatamente successiva alla recinzione del Chioschetto all'incrocio con via America. Dal 16 al 20 maggio istituzione del divieto di sosta con rimozione su via di Piazza Torlonia, lato arsa, solo lato sinistro, dall'incrocio con Piazza della Repubblica all'incrocio con via Roma. Dal 19 maggio al 18 agosto nelle sole giornate di sabato dalle 4 alle 16 istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito per tutti i veicoli compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga e divieti ad eccezione degli autocari per l'esercizio della vendita su via Mazzini nel tratto compreso tra l'incrocio di Piazza della Repubblica e l'incrocio con via Benedetto Croce. Il lago di Barrea anche per il 2018 sarà completamente non balneabile e il fiume Sangro in pieno parco nazionale di Abruzzo rischia di continuare a ricevere reflui non adeguatamente depurati. La stazione ornitologica abruzzese Onlus in vista della stagione estiva in cui aumenta la pressione antropica su strutture di depurazione inadeguate ha scritto a numerosi enti dai comuni ai ministeri per ribadire la necessità di agire da un lato sugli scarichi dei depuratori che hanno mostrato criticità nel recente passato e dall'altro di emanare specifiche ed adeguate ordinanze di dietro di ballo di azione assicurando la relativa sorveglianza per evitare l'esposizione dei cittadini a situazioni di pericolo per la salute. La stazione ornitologica ha evidenziato che la regione Abruzzo con deliberazione del 21 marzo scorso ha chiarito che era del tutto chiaro già con le norme vigenti che è vietata la ballenazione nei bacini lacustri non soggetti a monitoraggio e non individuati tra quelli idoni allo scopo. L'associazione lo scorso anno aveva sollevato per prima la questione della non ballenabilità del lago di Barrea nel parco nazionale di Abruzzo ricevendo all'inizio addirittura risposte del tutto incomprensibili dagli enti locali che evidentemente non avevano ben chiare le norme in materia. Inoltre era stato evidenziato lo stato pietoso del fiume Sangro le cui acque non rispondono agli obiettivi di qualità europei ed erano state segnalate le irregolarità di diversi depuratori della zona da quello di Pesca Cerro a quello di Barrea. Nonostante le reiterate note fondate su dati inoppugnabili le risposte sono state pari a zero sul fronte della risoluzione delle problematiche. L'associazione auspica che tutte le inadempienze riscontrate lo scorso anno non si ripetano e che gli enti assicurino interventi a tutti i livelli per evitare problemi sia sugli impianti sia ai fruitori di territori così belli ma così maltrattati. L'Abruzzo come non lo avete mai visto la sesta edizione del circuito di Avezzano si preannuncia ricco di novità nel solco della tradizione belle auto belle persone tanta natura e strade da sogno in un clima di grande amicizia dal 29 giugno al 1 luglio 2018 con un anticipo per gli occupaggi provenienti dall'estero il 28 Avezzano accoglierà 100 selezionatissime auto e tour d'epoca invitati dall'organizzazione che è proveniente dall'Italia e dall'estero nutrita la pattuglia dal Giappone con 5 equipaggi poi USA Argentina Inghilterra Germania e Olanda le nazioni rappresentate tutte le auto sono scoperte dagli anni 20 passando per le oltre 40 da corsa degli anni 50 le cosiddette barchette e spider fino al 1965 la manifestazione a calendario asi Automobile Club storico italiano ed organizzata dal Jaguar Drivers Club Italia giunta alla sesta edizione è stata premiata con il prestigioso premio la manovella ad honorem a testimonianza della qualità organizzativa e dell'alto livello di equipaggi e d'autoletture presenti e della ospitalità riservata le novità di questa edizione sono molteplici abbiamo giunto un giorno in più per gli equipaggi provenienti dall'estero e modificato il tracciato del circuito cittadino in notturna commenta Felice Graziani presidente del comitato organizzatore Taglio Cozzo uno dei borghi pubblici d'Italia ci ospiterà il venerdì con un concerto di musica lirica nel giardino del palazzo Ducale e Raiano con la valle Perigna il sabato mattina come di consueto il gran finale ad Avezzano il 30 giugno con il circuito cittadino la manifestazione tradizionalmente ad inviti è ormai una tappa obbligata per gli appassonati il tema di quest'anno è alla scoperta degli antichi tratturi e delle consolari testimonianza di un mondo agropastorale che non esiste più completare le procedure di appalto per il posizionamento della banda ultralarga sul territorio regionale è l'obiettivo del presidente della giunta regionale Duciano D'Alfonso che ha incontrato a Pescara i dirigenti di Infrata l'Italia e Open Faber le ditte esecutrici dei lavori nonché i direttori dei lavori dei progetti dedicati alla banda ultralarga per i quali la regione Abruzzo ha investito 133 milioni di euro i lavori per la realizzazione della banda che sono finanziati dal Port First Abruzzo 2007-2013 e par Fondo Sociale Abruzzo 2007-2013 prevedono la connessione cablata alla rete internet fino ad uno o più punti di distribuzione definiti armadi da cui un qualsiasi operatore telefonico privato potrà prelevare il segnale e distribuirlo in modalità neutralità tecnologica wireless o fibra con una capacità superiore ad almeno 30 megabyte per il secondo i comuni interessati sono ben 305 si tratta di una infrastruttura importante e vitale per lo sviluppo del territorio pertanto dobbiamo fare il possibile per completare i lavori in tempi brevi ha detto il presidente della regione Luciano D'Alfonso Obiettivo raggiunto esordisce così il presidente Franco D'Amore commentando i risultati della consistenza associativa di Cegna Avezzano comunicati dalla sede nazionale all'associazione territoriale diretta da Pasquale Cavasini e aggiunge l'anno scorso avevamo assunto l'impegno come gruppo dirigente territoriale verso il nazionale e l'abbiamo mantenuto superare per il 2018 i 2.000 associati tali risultato è frutto dell'impegno di tutti i dirigenti e quello straordinario di nostri dipendenti e collaboratori questi numeri assumono un valore ancora più importante e continuo d'amore se li contestualizziamo al momento di difficoltà economica che da troppi anni sta attraversando il nostro paese Cernia Avezzano in provincia dell'Aquila si conferma la più forte associazione di rappresentanza con 910 associati IMS 123 INAIL 214 diretti 743 pensionati 234 cittadini per un totale di 2.224 associati complessivi adesso conclude d'amore per ripagare questa gratificante azione abbiamo il dovere di impegnarci di più di consolidare le attività sindacali e far valere in tutti i tavoli di concertazione questa importante forza associativa rappresentare meglio gli interessi delle imprese per conseguire risultati strategici che aiutino a far crescere il sistema delle medie e piccole imprese locali e passiamo allo sport calcio una stagione caratterizzata da numerose difficoltà ma conclusa in maniera positiva grazie all'apporto decisivo di tutte le componenti stiamo parlando del San Giuseppe di Caruscino squadra di calcio di seconda categoria che nonostante i problemi legati ad una partenza di handicap alla fine è riuscito a centrare una salvezza che ha lo stesso valore di una vittoria per celebrare in modo migliore l'obiettivo raggiunto dirigenti e giocatori hanno festeggiato intorno alla solita tavola imbagnita alla quale nessuno si è sottratto da farle onore il servizio che segue è del collega Polinio Olivotto per vincere serve la squadra ma serve anche l'armonia e in questa società il San Giuseppe di Caruscino parliamo della seconda categoria di armonia ce n'è tanta le cene le fanno quando serve e sono sempre conviviali ben riuscite e poi hanno preso noi di Antenna 2 come porta fortuna è vero presidente Giovanni Sorgi l'avvocato Giovanni Sorgi parliamo di questo campionato non avete fatto grandi cose ma avete raggiunto una salvezza che a luglio agosto sembrava un'utopia sì per noi quest'anno è una vittoria di un campionato sostanzialmente per come siamo partiti per le difficoltà che abbiamo avuto nel corso dall'inizio della stagione noi il 21 di agosto eravamo 5 persone al campo e alla fine tutti quanti ci davano per spacciati abbiamo dovuto rifondare una squadra dal nulla e siamo riusciti abbiamo creato la cosa più bella il risultato più importante a questo l'avete visto anche questa sera un gruppo di ragazzi fantastici che fino all'ultimo durante la stagione voi siete già venuti in altre occasioni avete avuto modo di constatarlo ma anche fino all'ultimo allenamento erano in tanti erano 20 persone a fare l'allenamento e questo è sempre stato così nel corso della stagione questo è stato il primo risultato raggiunto e poi l'obiettivo minimo finale che noi avevamo come società puntato era la salvezza in seconda categoria ci siamo riusciti con tante difficoltà superando tanti ostacoli e l'obiettivo è stato raggiunto ripeto successo doppio come società riteniamo di aver vinto un campionato ripeto con tutte le problematiche che abbiamo avuto senti durante la stagione parlo da agosto in poi ti è mai passato per la testa ma chi me l'ha fatto fare? tante volte però la passione l'amore per questa società il perché è nata questa società il dove da dove è partita questa società questa squadra mi hanno aiutato a portare avanti quello che era stata la nascita della squadra e quindi anche continuare l'attività della società sportiva non vi nascondo che avevo avuto anche diverse richieste da altre società in precedenza nel periodo d'estivo però non potevo lasciare la società morire perché a qualcun altro questa cosa avrebbe fatto piacere insomma un gruppo di amici che non viene scalfito da niente e da nessuno un gruppo di amici di persone per bene soprattutto e un gruppo di ragazzi che io definisco soprattutto non tanto giocatori uomini uomini veri e quando prendono una parola dalla d'anno fino alla fine e come è stato quest'anno fino alla fine hanno tenuto duro con tutte le difficoltà di questo mondo però hanno visto la società che c'era il gruppo di dirigenti che c'era l'allenatore gli allenatori che c'erano e hanno dato tutto fino alla fine e alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo hanno raggiunto l'obiettivo che c'erano previstati anche grazie a loro e grazie a voi e ovviamente tocca anche al mister Nevaldo Mozzetti Pita e a Gerry Fedele che è il capitano di questa squadra dicevo con Giovanni Sorgi un inizio veramente da far tremare i polsi poi invece siete riusciti a portare la barca in sala si diciamo che con il tempo siamo riusciti a creare un bel gruppo grazie anche al sostegno della società se dobbiamo dire sono stati un gruppo dei bravi ragazzi sono impegnati tantissimo durante l'anno e niente sicuramente merito loro e il momento più difficile qual è stato Pita? il momento più difficile il momento più difficile è stato tutta la nata abbiamo fatto delle cose belle delle cose anche piacevole a livello calcistico però non riuscivamo a ottenere dei risultati poi un po' si è sbloccata la cosa è venuto fuori il gruppo e ecco qua dedichiamo questa salvezza alla società resterà anche l'anno prossimo? non lo so da che cosa o da chi dipende? no non dipende da nessuno sicuramente oggi come oggi e questo clima di festa eccetera eccetera direi di sì perché mi sono trovato benissimo è un contesto di bellissime persone e a me piace questo tipo di di clima però io adesso come adesso abbiamo appena finito un campionato molto travagliato molto impegnativo e adesso cerchiamo di riposare un po' e poi per il prossimo anno si vedrà Fedele capitano di questa squadra di solito il capitano è la persona che ha più carisma no? in campo come ti comporti? cioè ti danno ascolto? ma guarda in campo almeno questa è una mia idea comunque un'opinione personale in campo ci si va neanche in 11 ci si va in 18 quindi noi l'abbiamo fatto sempre sia nei momenti più difficili che nei momenti in cui magari era anche facile vincere qualche partita perché comunque abbiamo avuto anche domeniche di questo tipo io se posso dire la mia sincera proprio verità sono veramente rimasto positivamente colpito da questa esperienza proprio perché ho avuto il piacere di rappresentare perché comunque portando comunque una fascia su un braccio riesce a rappresentare un gruppo ma un gruppo fatto di soprattutto di amici più che di calciatori amici prima prima di quello che è poi l'aspetto tecnico che è il presupposto di base per ottenere comunque dei risultati Agosto quando siete partiti che eravate quattro catti veramente che cosa hai pensato non ti è venuto da pensare ma chi me l'ha fatto fare me ne vado a casa anch'io potrebbe sembrare una frase fatta ma non l'ho mai pensato sono sincero non l'ho mai pensato un po' perché comunque ho avuto il principio di mettermi a disposizione nel rispetto di delle persone e soprattutto la società per quello che era stato l'anno passato assolutamente e poi cosa che ho ribadito anche ai miei compagni domenica dopo domenica anche l'ultima domenica a giochi fatti dove magari era facile io sono sempre stato convinto che noi non potevamo che ottenere un risultato positivo anche se magari in maniera un po' travagliata e complicata ho avuto sempre questa convinzione e l'ho avuta anche il giorno che il primo giorno eravamo cinque abbiamo avuto la fortuna di avere le nostre guide tecniche mister Peter e poi c'è anche mister Pontesilli che nello specifico si occupa dei portieri che ci hanno ci hanno guidato e ci hanno dato veramente una grossa mano senti il più matto della compagnia chi è? è una bella gara questa un paio di nomi così non scontentiamo nessuno e beh sì almeno due o tre nomi me li devi dire vabbè ma la telecamera è immobile? non ti preoccupa sì sì poi le facciamo girare allora c'è quello lì in piedi diversamente pettinato che si chiama? Noletti e Bomberone voglio citare Bomberone questi sono i due più mati sì sì Bomberone grazie prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale Salve e ben ritrovati dagli studi meteo di Antena 2 come possiamo notare dalla nostra immagine grafica l'intensa perturbazione che ha attraversato le regioni del centro nord e parte del centro sud si sta ora allontanando lasciando a sé infiltrazioni d'aria fresca e instabile che come possiamo notare dalla cartina successiva nella giornata di mercoledì sulla nostra regione Abruzzo daranno ancora luogo ad un po' di tempo variabile e un po' di variabilità soprattutto sulle nostre zone interne dunque questo vuol dire che si alterneranno nubi a sprazzi di tempo bello e soleggiato tuttavia nel corso del pomeriggio ancora potranno esserci rovesci di pioggia attratti a carattere temporalesco sulle zone montuose e invece il tempo andrà decisamente meglio sulle aree subappenniniche e sulla costa adriatica le temperature massime le temperature massime saranno in lieve aumento su tutto il nostro territorio in particolare il significativo aumento si verificherà nel corso dei prossimi giorni sulla costa adriatica le temperature minime invece in diminuzione sulle nostre zone interne dove ci sarà ancora l'escursione termica e quindi farà ancora piuttosto fresco possiamo notare l'indice raggi ultravioletti sarà in aumento a causa dell'insolazione che si proporrà fin dalle ore mattutine poi avremo una diminuzione per via dell'aumento della nuvolosità grazie per la cortese attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento meteo grazie per la cortese attenzione 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 grazie per la cortese attenzione